Questa è agraria, questa è fisica, questa è matematica, questa è informatica, questa è chimica, questa è biologia, questa è scienze del farmaco, questa è scienze della terra, questa è veterinaria e queste sono le facoltà scientifiche della statale, oggi, un domani questi edifici potrebbero invece essere del tutto abbandonati. Lo spartiacque lo possiamo collocare nel 2008, quando scoppia la crisi dei valori immobiliari prima negli Stati Uniti si ripercuote a livello europeo e poi in tutto il mondo. Ci si ripercuote di considerare un ente unico, questo mi stai dicendo. Andare via per noi era come seppellirci, vivi. La durata del mio viaggio è slitta tra un'ora, un'ora e mezza, a volte anche due ore. Cercate di capire quali sono i libri che volete mantenere. La risposta unanime che è stata data a te, tutti, dal primo allungo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.